Enzo Romeri vincitore della CMP Urban Trail di Imperia, che emozione è stata? È stata un'emozione grandissima, bella, poi nel territorio così lagunare, che io vengo dal Trentino, dalle montagne, quindi vivere un po', le due cose è stato veramente piacevole, molto bello, gratificante. Su un circuito segnato bene gli organizzatori, un grande applauso per come è stato segnato, come è stato tracciato, c'è stato un punto in alto, come dicevo prima, che da una parte c'era la neve e dall'altra al mare, quindi una cartolina che riporterò sempre con me, insomma, quello sì. Tornerai volentieri a correre a Imperia? Sicuramente, ormai è una tappa fissa del calendario, quello sicuro, sicuro. Grazie.